I nominati sono Caserta e Colucci Io prenderò il microfono Ragazzi, siccome si alziamo troppo fischia dovete usare tutto il fiato che mettete in capo per parlare ai microfoni Intanto inizio io con una domanda, scusami Andrea, dove vai? Ecco, volevo chiedere proprio questa cosa Ci sono i tifosi che da quando sei arrivato in piazza ti dicono un parolo, non te ne andare Cosa rispondi?